Seminario sul progetto di storytelling digitale legato ai siti museali del Val di Noto. I musei del Val di Noto, un progetto di storytelling digitale per il sito museale del Val di Noto, è il tema di un seminario che si darà sabato 19 alle 10 nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa in Viale Scala Greca. Il seminario è organizzato dall'ITS Fondazione Archimede. Dopo il saluto istituzionale affidato dal Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona e alla Presidente dell'ITS Fondazione Archimede Andrea Corso e al Direttore Giovanni Di Mauro sarà Francesca Ercolini, docente dell'ITS e direttrice del progetto valdinoto.it a presentare l'idea progettuale ai musei del Val di Noto. Elisa Bonaccini, docente alla University of South Florida, introdurrà la piattaforma Easy Travel mentre a concludere l'incontro saranno Amalia Antoci e Valentina Sirugo, rispettivamente diplomanda e già diplomata dell'ITS Fondazione Archimede che illustreranno i loro progetti di storytelling museale pensati ed elaborati durante la frequenza del corso di studi ITS in hospitality management presentati sulle piattaforme valdinoto.it e Easy Travel.